Con l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di Monsignor Roberto Carboni, Francesco Soru, 33 anni, originario di Bauladu, insieme a Marco Ruggiu, 25 anni, originario di Bonarcado, sono stati ordinati diaconi. È stato un momento di grande festa e gioia non solo per l'Arcidiocese di Oristano ma per l'intera Chiesa Sarda. Durante l'Omelia il Vescovo ha sottolineato che l'ordinazione è un momento comunitario, un evento di Chiesa al quale tutta la comunità è chiamata a partecipare. Ha specificato che ogni vocazione non è solamente un fatto personale ma sempre anche un evento comunitario, un fatto ecclesiale, una risposta della comunità che ha generato, accompagnato e sostenuto nel cammino di fede. La celebrazione tenutasi domenica 5 maggio nella cattedrale di Santa Maria Assunta ha visto la partecipazione di una numerosa folla di fedeli, familiari e amici. La liturgia è stata solenne ed emozionante soprattutto durante il momento in cui i due candidati hanno proclamato i loro impegni e poi durante il canto delle litanie con i futuri diaconi prostrati a terra, seguito dall'imposizione delle mani e dalla preghiera consacratoria. Significativo e coinvolgente anche il rito della vestizione e la consegna del libro dei Vangeli. Al termine della celebrazione i festeggiamenti si sono spostati all'esterno della Chiesa dove i nuovi diaconi sono stati accolti con affetto e congratulazioni, segnando l'inizio del loro cammino di servizio alla Chiesa.